Non passa neanche un giorno dove non si legge di violenza brutale che soprattutto viene dal gruppo degli immigrati. Hanno una violenza dentro di sé fortissima. Poi non passa neanche un giorno dove non veniamo fermati dai poliziotti che si sentono lasciati da soli. Anche qui in città, a Bolzano, anche a Merano, succedono ogni giorno delle cose pazzesche. Secondo me veramente così non possiamo più andare avanti. I poliziotti hanno paura perché quando fermano extracomunitari, quando vogliono fare qualcosa, c'è sempre qualcuno o il giudice o qualcun altro che o vengono nominati come razzisti, non possono fare quello che dovrebbero fare. Poi sono dei motivati e secondo me la situazione è pazzesca. Grazie.